Tre bische clandestine sono state scoperte a Torino e provincia dai carabinieri del comando provinciale. 29 le persone denunciate, tutte italiane tra i 40 e i 60 anni. Il blitz dei militari è scattato sabato scorso in tre circoli diversi a Torino, Collegno e Venaria, adibiti a bische di notte. I locali erano protetti da telecamera a circuito chiuso che riprendevano anche l'esterno, in modo da poter prevenire eventuali controlli. e le finestre erano ricoperte con dei plexiglass colorati per non permettere la visuale dall'esterno. I carabinieri, dopo mesi di pedinamenti, appostamenti e fotografie scattate, hanno dovuto fare quindi irruzione nei tre locali per cogliere in flagranza i giocatori e poterli così denunciare del reato di gioco d'azzardo. 7.600 euro i contanti sequestrati insieme a diversi mazzi di carte e alcuni set di fish. A far scattare le indagini determinanti si sono rivelate le testimonianze dei parenti di coloro che, a causa del gioco compulsivo, si erano ridotti sull'astrico, impegnando persino i beni di famiglia. Siamo arrivati per la segnalazione di alcune persone vicine ai giocatori più seriali, quelli che scommettevano più pesantemente, perché evidentemente il problema di una scommessa troppo pesante, compulsiva, di una mania, di una patologia del gioco, poi diventa un problema della famiglia, non soltanto del singolo giocatore. Ed è per questo che qualcuno poi ha iniziato a cercare una soluzione rivolgendosi a noi. Dopo alcuni mesi di indagine, di appostamenti, di osservazioni sui luoghi, diciamo così, nelle vicinanze di questi locali, e siamo riusciti a capire che le serate più remunerative erano il sabato notte e che la clientela si alternava sempre tra le 20 e le 40 persone e quindi abbiamo deciso di intervenire per stroncare questo fenomeno.